Non mi hai più mandato l'audio del negozio di orologi? Come mai? È veramente un bellissimo regalo. Se mi chiama domani a questo numero, le faccio sapere per uno scolto. Non lo dica in giro, però. Quello che facevi tu non si può paragonare a queste cazzate. Non le faccio più quella roba. Davvero ti piace questo posto? Mi piace potermi sentire un estraneo. Quanto ti fermi? Non lo so, ancora per poco. E lei chi è? Aspetta. Sbagliato. Non possiamo continuare così. Che ti credi di essere? Senti, io... Stai zitto! Mi dai il passaggio! Guarda! Stai zitto! Pensavo che dormire fosse solo una verità di tempo. Quindi, questo è un passo più successivo. E un altro passo. Non lo so. E un altro passo. Mi dai il passaggio! Che ti credi di essere solo una volta.